Ben trovati al TG6 L'Aquila. Oggi apriamo parlando di ricostruzione. Andiamo subito alle case popolari di San Gregorio. Un Natale ancora tra le macerie per il settimo anno consecutivo. Il Natale qui alle case popolari verrà festeggiato in un'atmosfera di messa tra le macerie del sisma. La ricostruzione infatti è ancora ferma e tra i resti delle abitazioni spuntano anche delle discariche a cielo aperto. Ci racconta tutto Giorgio Alessandri. Di Natalizio tra le case popolari di San Gregorio, frazione a due passi dall'Aquila, c'è ben poco. E sarebbe difficile per chiunque, sapendo che per il settimo anno consecutivo le abitazioni sono incastonate ancora tra le macerie, quelle del sisma, e vere e proprie discariche a cielo aperto, frutto dell'inciviltà delle persone. E da allora, in chi è tornato a vivere in quel contesto, lo scoramento ha preso il posto della speranza nel futuro, come ci spiega Franco Marulli, della Stocasa UGL. Abbandonati, completamente abbandonati. Soprattutto adesso che si avvicina il Natale non c'è festa, perché gli abitanti stanno nella tristezza. Lo vivono nella tristezza perché si sentono fortemente abbandonati dall'amministrazione comunale. Avete avuto alcuna interlocuzione con la politica? Avete avuto delle restituzioni? Insomma, le persone si sentono un po' abbandonate? Sì, abbandonate completamente, ma poi non c'è comunicazione tra l'amministrazione e gli abitanti che vengono qua. Anche se ci stanno delle proposte di regge che dicono che hanno i soldi che dovrebbero mettere a posto il quartiere, ma è solamente un parlare nelle stanze. Non c'è comunicazione, gli abitanti stanno completamente abbandonati. Si inizia a perdere la speranza adesso? Completamente. Prima c'era un po' di speranza, c'era la voglia di lottare, ma nell'abbandono manca anche la speranza. No al progetto di varianti a nord del comune aquilano di Poggio Picenze, nell'ambito della realizzazione del nuovo collegamento veloce tra l'Aquila e Pescara. Sono 221 le firme su 700 votanti raccolti a sostegno del progetto alternativo, che passa invece a sud del centro abitato. Ad opporsi sono diverse associazioni. Il Castello, guidato da Antonio Galeota, ex sindaco poggiano, e Memoria Futuro, presieduta da Augusto Manilla, consigliere di opposizione della scorsa consigliatura, che parla in rappresentanza di tutti i cittadini che hanno firmato. Le associazioni appoggiano il progetto iniziale di Galleria Sud di Poggio Picenze nei pressi del nucleo industriale. Bocciano invece l'ipotesi che mercoledì, una rappresentanza del tavolo tecnico coordinato dal consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, proporrà a Roma presso la struttura tecnica di missione per proporre il nuovo progetto. Questa variante nord di Poggio Picenze è contro il territorio. Dicono in realtà le associazioni. In pochissimo tempo sono state raccolte delle firme. Ci sono diverse motivi, diverse motivazioni per il no. Innanzitutto scrivono, è stato riscontrato un impatto negativo sulla salute dei poggiani. E poi c'è anche un aspetto economico. Anche l'Abruzzo è pronto per il giubileo. Inizia oggi a Roma il giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco. In Abruzzo saranno ben 22 le porte sante che verranno aperte per l'occasione. All'Aquila, quella di Colle Maggio, la prima della storia della Chiesa, non verrà aperta per i lavori di restauro della Basilica. In via straordinaria verrà utilizzata la porta della Chiesa di San Bernardino. Giorgio Alessandri. In Abruzzo saranno 22 le porte sante che saranno aperte in occasione del giubileo della misericordia, oggi al via in Vaticano. Si inizia sabato 12 dicembre al santuaglio di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, dove il Vescovo di Terra Moatri anticiperà l'apertura di una delle porte che attraversandole purificheranno in federita i peccati. È invece il giorno di Santa Lucia, nella terza domenica d'avvento, il 13 dicembre, che le sette diocesi abruzzesi hanno previsto l'apertura delle porte verso la redenzione. L'evento riveste per l'Abruzzo un'importanza rilevante, perché fu proprio Celestino V che istituì l'indulgenza plenaria. E ci troviamo di fronte al portone principale della Basilica di San Bernardino, quella che quest'anno è stata individuata dall'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, come chiese a giubilare, in quanto la porta santa della Basilica di Collemaggio è la prima della storia, è attualmente inutilizzabile in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione della Chiesa. Quindi dal 13 dicembre, il giorno in cui il Santo Padre ha comunicato l'apertura delle porte sante, questa qui sarà aperta ai fedeli che potranno lucrare l'indulgenza. Al via oggi l'Aquila Film Festival, da oggi fino al 18 dicembre, proiezioni e momenti di approfondimento per la non edizione della rassegna cinematografica, che quest'anno vede il coinvolgimento di molte istituzioni culturali cittadine e anche dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Si inizia con un omaggio al giubileo di Papa Francesco. Al via la non edizione dell'Aquila Film Festival, la rassegna cinematografica ideata dall'Associazione L'Idea di Cleves, che quest'anno vede il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali aquilane e dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo. 11 giorni intensi, con proiezioni e momenti di approfondimento. Oggi, 8 dicembre, si è sovraesposto, si è aggiunto anche questo giubileo straordinario, per cui abbiamo organizzato un'apertura all'insegno del rapporto tra perdono e vendetta. Alle 18 con lo spettacolo su Frate Francesco, su San Francesco, a Curella Baratelli. E poi dalle 20 apriamo il festival vero e proprio, quindi cominciamo prima con un piccolo aperitivo. E poi alle 21 analizziamo il rapporto tra cinema e vendetta, con la proiezione del film in ordine di sparizione, quindi una dark comedy norvegese, quindi un film bello e importante per aprire il festival. Un festival che si concluderà il 18 dicembre, con momenti dedicati alla riflessione e che proporrà al pubblico un interessante spaccato della cinematografia europea, con tante iniziative collaterali a fare da contorno alla rassegna. Sì, è un festival che dura 11 giorni, non sono pochi. È nato dal fatto che abbiamo voluto, già da luglio e d'agosto, coinvolgere le varie istituzioni cittadine e fare un cartellone condiviso. Per cui più spazio per fare non solo cinema, cioè appunto apriamo con il teatro, ci sarà musica, ci sarà un incontro sull'Armenia in occasione del Cento Anni del Genocidio, analizziamo anche il rapporto tra cinema e giornalismo, c'è concorso, ci sono incontri, un omaggio a Pasolini, c'è veramente tanto, 11 giorni pieni e ricchi, con 10 film in concorso, 15 cortometaggi in concorso e tante cose all'esterno, all'i fuori. E a proposito di cinema, un intervento della senatrice del PD Stefania Pezzopane, la proposta che ho lanciato qualche giorno fa di costituire una holding per le attività cinematografiche e audiovisive con tutti i soggetti in campo ha riscontrato un certo interesse sia da parte dei pubblici che privati, scrive la senatrice. Potrebbe rappresentare una grande occasione per l'Aquila e l'Abruzzo intero per rilanciare il settore, valorizzando quanto già esiste, l'Accademia delle Immagini, la Lanterna Magica, la Fil Commission, i Festival dell'Aquila, Sulmone ed altro ancora. In questo disegno, la salvezza, scrive del Centro Sperimentale di Cinematografia, diventa indispensabile e mi auguro che la Regione non voglia abbandonare a se stessa una realtà che nacque all'indomani del terremoto. E sempre a proposito di cinema, ultimo appuntamento per la rassegna Cinema e Psichiatria che giunge alla conclusione mercoledì 9 dicembre, domani alle 18.30, presso la multisala Moviplex. in programma c'è l'ultimo appuntamento, posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone. Al Parco del Castello è stato inaugurato questa mattina il Mercatino del Natale, tanti oggetti di artigianato locale e non solo. Sentiamo. Oggetti di artigianato locale, prodotti tipici, giochi di legno per bambini, c'è tutto questo nel Mercatino Natalizio, inaugurato oggi nel Parco del Castello, all'Aquila, espositori aquilani ma anche provenienti da fuori regione, una riscoperta dell'originalità e del pezzo unico ultimamente che premia questi artigiani, capaci di proporre oggetti utili, ecologici e naturali. Voi venite da? Noi siamo dell'Aquila. Artigiani locali, nel senso tutto fatto rigorosamente con le vostre mani? Esattamente, noi siamo un laboratorio di inserimento lavorativo per persone con disabilità e facciamo insieme a loro tutti questi oggetti completamente a mano. Il settore dell'artigianato è locale ma non solo perché poi fate cose un po' per tutti e come va in questo momento? Noi siamo più interessati sul settore delle bomboniere o comunque oggettistica su richiesta, a parte poi i mercatini di Natale dove facciamo roba per tutti. C'è richiesta nel senso che la gente si sta cominciando ad appassionare anche per esempio per le bomboniere di un matrimonio o di un battesimo a questi oggetti che sono unici, sono assolutamente particolari? Sì, noi abbiamo iniziato da poco, da un paio d'anni e sempre di più c'è richiesta su questi oggetti appunto fatti a mano. Oggi avete portato il vostro negozio in questo mercatino, oggetti fatti a mano, tutto per bambini, come vanno le cose? È abbastanza bene, non è facilissimo comunque stare in centro come attività e infatti noi abbiamo deciso di partecipare a questo mercato anche per insomma coinvolgere di più la gente all'interno del centro storico. Ecco, le mamme comprano per i loro bambini queste cose di artigianato, cose sicuramente, oggetti, capi di abbigliamento particolari, c'è una riscoperta per questo? Sì, decisamente sì, c'è una riscoperta sia per il fatto a mano, infatti noi facciamo un sacco di, non so, vanno moltissimo i cappelli, ma anche i bavaglini, i ricamati e poi piace moltissimo il giocattolo, l'oggetto, il legno, infatti noi cerchiamo di seguire assolutamente questa filosofia del naturale, evitiamo la plastica e giochi insomma moderni, tra virgolette. Ora lo sport con l'Aquila Calcio che pensa già alla gara interna di sabato contro il Rimini allo Stadio Fattori dopo il passo falso ottenuto a Siena in una gara in cui ci sono stati degli errori ma in cui comunque l'Aquila non ha demeritato. Giorgio Alessandri ci racconta tutto. Non c'è festività che tenga in casa dell'Aquila Calcio bisogna dimenticare al più presto il K.O. di Siena e pensare al match di sabato con il Rimini. In palio ci sono punti pesanti che, nonostante sia solo dicembre, potrebbero risultare decisivi in vista della salvezza diretta e la permanenza in Lega Pro. Quasi uno spareggio per i ragazzi di Mister Perrone. No, per noi ogni partita è fondamentale quindi dobbiamo pensare alla partita di Rimini come abbiamo pensato a tutte quante e dobbiamo cercare come a tutte di ottenere il massimo da questa partita. E a Siena, al di là degli errori individuali, cosa che non è andata secondo te? Siena è stata una partita no. Forse siamo partiti un po' piano, ci siamo adeguati ai loro ritmi, una cosa che non dobbiamo mai fare perché noi dobbiamo andare sia in casa che in trasferta a fare la partita e cercare sempre di portare a casa i tre punti. Non è successo a Siena e abbiamo già la possibilità di rifarci sabato con Rimini. Una partita che poi ci avvicina alla fine dell'anno è importante riuscire a chiudere questo fine di anno almeno con 4-5 punti per poter iniziare poi il 2016 in maniera ottimale. Sì, sì, dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo dei punti e passare a un Natale sereno e stare sereni per ricominciare poi al meglio il 2016. L'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi Veniamo alla Cultura è stato premiato con targa di rappresentanza premio Guerino Testa alla 23esima edizione del premio internazionale d'annunzio sezione pittura che si è tenuto nella sede dell'Aurum a Pescara dal 29 novembre al 6 dicembre. La giuria ha segnato il premio di rappresentanza per le opere esposte da Ciccozzi tra sposizioni le fime rapparenza fiotti di colori e ottobre abruzzesi realizzati con tecnica mista su tela e stile astratto materico informale. Il prossimo appuntamento di quest'artista aquilano è la Biennale del Senso della Materia che si terrà a Grezzo dal 27 dicembre al 10 gennaio presso il Museo Max di Grezzo sotto la direzione artistica del maestro Guido Carlucci e con ospite d'onore Vittorio Sgarbi. Con 141 like Enrico Ludovici è il vincitore del terzo contest della stagione 2015-2016 della rassegna Eno Gastronomica itinerante una domenica fuori parta ideata da Marco Signori e Alessia di Giovacchino. Ludovice porta a casa due bottiglie dell'azienda vitivinicola Catina Frentana visitata lo scorso 22 novembre nel corso dell'escursione dedicata alla visita dell'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia e il pranzo sulla Torre Vinaria. Sono aperte intanto le prenotazioni per gli speciali auguri dell'unica escursione in casa della rassegna bollicina di Natale al punto e il tema del prossimo 19 dicembre questa volta di sabato i fuori portisti saranno coccolati con strenne natalizie speciali degustazione a base di champagne finger food di pesce e panettoni del maestro Ferretti bene è tutto per il nostro Tg io vi ringrazio come sempre per la cortesia e attenzione e vi invito a rimanere su TV6 per la nostra programmazione consueta arrivederci per la cortesia Grazie a tutti.